Preparati perché il secondo a cadere sarai tu! Vai, Basil! Continua così e buttalo giù dal ring! Ehi, gli avverto! Guai a voi se vi fate sbattere giù dal ring! Coraggio, Sesto Universo! Sbattete il Settimo Universo giù dal ring! Su, divertici! Vediamo che sai fare il Settimo Universo! Giovane Saiyan, sappi che questa volta ti distruggerò! Non agitarti, Gon! Il piano è stata una tua idea! Devi essere pronto a tutto, ricorda! Qui si mette male, sono circondati! No, se la caveranno! Hanno le spalle coperte e attendono gli avversari secondo il piano stabilito! Colpo del sole! Cannone speciale! E' stiomatico! Sì, sono forti, bisogna ammetterlo, non a caso prendono parte al torneo! Ricorda, Gohan, massima concentrazione! Sì, d'accordo! Basil! Alle tue spalle! Buon appetito! E' stiomatico! Sì, d'accordo! Sì, d'accordo! Sì, d'accordo! Sì, chiediamo ammetterlo! E con te saremo a due! E con te saremo a due! Cosa d'accordo? Sì, d'accordo! Cosa d'accordo? Non c'è da sorprendersi, in fin dei conti Napapa è lo Yokoduna del Doyodoro Lo chiamano il mago del bordoring e ora sappiamo perché Grazie, grazie a tutti Cos'è il Doyodoro? È un'arte marziale del decimo universo, mentre il termine Yokoduna indica il più forte lottatore di sumo esistente Wow, fantastico, puoi dirlo forte